Il Cardinale Crescenzio Seperci, Vescovo di Napoli, insieme a circa 200 studenti, ha celebrato la giornata diocesana dell'ambiente. Con lui il Vice Sindaco Raffaele del Giudice e le dirigenti scolastiche dei licei genovesi e Vittorio Emanuele dell'Istituto Professionale Casanova e dell'Istituto Comprensivo Casanova Costantinopoli. Dopo un primo momento di accoglienza alla presenza del Vicario Episcopale per la Carità, Don Tonino Palmese, sono proseguite le visite guidate alle Basiliche di Santa Chiara del Gesù Nuovo. L'incontro ha un taglio sì confessionale perché è la Chiesa Cattolica che propone la necessità della salvaguardia del creato e l'importanza allo stesso tempo. Ma è chiaro che dentro tutto questo parlare di anno santo e di porte da attraversare per tentare di cambiare atteggiamento nei confronti della vita, è anche questa un'occasione da non perdere. La mattinata si è conclusa al Conservatorio San Pietro Maiella con il saluto della direttrice Elsa Evangelista, gli interventi del Vice Sindaco di Napoli Raffaele del Giudice, che ha lanciato le dieci buone azioni a favore dell'ambiente, e del Cardinale Crescenzio Sepe, un momento musicale offerto dagli alunni del Conservatorio. La migliore azione è quella di trasmettere ai ragazzi delle piccole azioni, dei piccoli suggerimenti, dei comportamenti. Loro già lo sanno, sono preparatissimi, ma il tema di queste azioni deve essere ripetuto n volte, tante volte, trasmesso e fatto insieme, in una sorta di prendersi cura del creato, così come Sua Santità ha ritenuto opportuno con la sua enciclica. La giornata vuole essere l'occasione per sensibilizzare tutti i alunni e i cittadini ad adottare buone pratiche ambientali, stili di vita ecologici, ad assumere una maggiore coscienza civica. Da qui infatti l'idea di esportare la passeggiata anche in altre zone della città, come conferma il Cardinale. È un modo di sensibilizzare innanzitutto i giovani che sono quelli più sensibili, ma ai quali si chiede appunto di assumersi una responsabilità perché possano contribuire con il loro entusiasmo, ma soprattutto con le loro capacità a rendere più bella questa nostra città in diversi posti, con diverse iniziative. E allora credo che questo sia il modo migliore per festeggiare, diciamo in qualche modo, questa giornata dedicata poi all'ambiente e alla salvaguardia del creato.